Ciao a tutti ragazzi, io sono Sesterzo Grosso e benvenuti in questo nuovissimo video come sempre Nuovissimo video come sempre, che cazzo ho detto? Non lo so, che cazzo dintro è questa? Non lo so Però comunque, prima di passare al video in questione, che sono sicuro che aspettavate tutti quanti Sin dal primo momento, sin da quando è uscita questa teoria su questo nuovo personaggio di Azbill Per l'appunto, che è un personaggio molto affascinante, così anche molto gnocca, perché sì, alla fine Il personaggio di Ru, perché è proprio di lei che andremo a parlare in questo video teoria, è molto gnocca E credo possa diventare uno dei miei personaggi preferiti, credo, poi non lo so, poi toccherà vedere se la metteranno nella seconda stagione Sì, no, eccetera, però comunque lo andremo a scoprire non in questo video ma nel futuro Però in questo video andremo a teorizzare Quindi lasciate le solite cose che ovviamente sapete benissimo, che però io vi devo continuare a ricordare Ovvero di lasciare un bel like, ovvero un bel pollice in su a questo video, come sempre E di iscrivervi, iscrivetevi insomma al mio canale YouTube E attivate quella fottuta campanella che madonna deve esplodere come questo mouse Un giorno che davvero lo faccio esplodere, poraccio Siamo già a un minuto e mezzo di registrazione, quindi mi sa che mi viene Che devo partire subito con le varie teorie di Ru, di questo personaggio così misterioso e affascinante Come già detto all'inizio del video, vabbè, passiamo alle teorie Vai, allora, la prima cosa, allora, innanzitutto le notizie sul personaggio di Ru sono molto limitate Quindi scusatemi se non sono riuscito a trovare gran che, ma è davvero impossibile trovare qualche novità su questo personaggio Oppure magari c'erano e io non le ho sapute, quindi magari scrivetemi sotto nei commenti se sapete Magari, scusatemi ancora una volta, su questo personaggio, se sapete qualcosa che magari io ho dimenticato Ho scortato di dire, eccetera, però vabbè Allora, Ru, che cosa è Ru come demoni, immagini, perché un coso del genere di sicuro è un demone E tra l'altro il suo design è stato postato sul Twitter di Vizipop Giorni prima che uscisse l'episodio di Vilota su YouTube Quindi ad ottobre, mi sembra che l'episodio di Vilota è uscito il 29 ottobre Quindi il... non mi ricordo Però, fatto sta, è uscito il design di Ru molto prima dell'uscita di Azmi Hotel Non molto, caso mai però, diciamo, un po' prima Dell'uscita di Azmi Hotel, quindi avrebbe segnato che questo qua Che questa demone qua sarebbe stato un personaggio molto importante E tra tutti quanti gli allineamenti che può avere un personaggio con un design del genere E anche un po' da come viene descritto da molti Molto probabilmente sarà l'antagonista principale di tutto quanto Perché alla fine vi viene detto che lei è l'incarnazione del male puro Quindi il male puro nasce proprio quando Eva, seconda moglie di Adamo per l'appunto Mangia la mela Infatti dopo, infatti nel flashback del primo episodio della serie Vediamo proprio un flashback in cui Lucifero dà per l'appunto il frutto proibito, la mela Che in realtà non viene descritto che cazzo il frutto sia Quindi facciamo che sia una pera quest'oggi, vabbè Lucifero dà la pera No, così suona male, meglio la mela Lucifero dà la mela a Eva Eva mangia il frutto E per l'appunto si viene a creare tutto quanto uno squilibrio nel mondo Perché è appena nato il male E tra tutte le cose che vediamo, tra tutte le immagini che vediamo Vediamo questi pieni occhi rossi E dopo ci ritorneremo sul fatto degli occhi rossi Ed anche che una specie di mano che però sembra più che altro una radice Io la voglio interpretare così come la radice dell'albero proibito, diciamo Del frutto proibito Si aggroviglia intorno al mondo Il che sembra essere, diciamo, una sorta uguale Una sorta di cosa uguale Simile a quello che esce fuori Rook Che dovrebbe essere più o meno la sua lingua che incarna il male Vabbè, non ci spieghiamo Però, se effettivamente Eva è Roo Innanzitutto Roo dovrebbe essere l'abbreviazione di La nascita di tutti i mali o qualcosa del genere, non lo so Lucifero dice una frase ad Adamo che a me mi ha un po' squilibriato Quando ho letto sta teoria qua sul fatto che Roo possa essere in realtà Eva Perché nei mille modi per sfottere Adamo e Lucifero durante la loro mini battaglia Ecco, gli dice che praticamente si è scopato sia la sua prima moglie Che è Lilith, che è anche la moglie originale di Lucifero E si è fottuto, inculato, bello per bene Ok, la smetto, altrimenti entro troppo nella smodius Vabbè, basta Eva, quindi si è portato a letto tutte e due le mogli di Adamo per l'appunto E qua ovviamente mi è sorto spontaneo Ovvero, se Roo, io la continuo a chiamare Roo Se Roo effettivamente è l'incarnazione del male puro, no? Eccetera In teoria dovrebbe odiare Lucifero Perché alla fine è come se gli ha rovinato un po' la vita Alla fine Eva e Adamo si fidarono l'uni degli altri Perché alla fine il motivo per cui è stata creata Eva È proprio perché Lilith se n'era andata per l'appunto Quindi io mi immagino che magari Lucifero e Eva E Roo in questo caso hanno avuto un rapporto sugli alti e bassi Magari, non lo so, erano amici, conoscenti, suoceri, zii, prozii, nonni, nipoti Non lo so Però quel che so è che non lo so Perché probabilmente dovremmo aspettare la seconda stagione Però secondo me sì Roo è Eva Però il motivo per cui Lucifero ha detto che si è inculato tutte e due le mogli di Adamo Per l'appunto ad Adamo Secondo me è proprio per sfotterlo alla grande E farlo imbestialire ancora di più Per vedere a che livelli arrivava il suo potere Tra l'altro avrebbe anche senso che sia Eva Perché in questo caso Adamo è in paradiso Eva sta all'inferno Quindi proprio perfetto Poi sulla faccenda degli occhi rossi E qua lo so che molti di voi già si stanno togliendo la maglietta Per la teoria assurda che sto per sparare Che molti l'hanno sparata Però comunque io penso che sia stata più o meno Roo a fare il patto con Alastor Piuttosto che con Lilith Perché con Lilith avrebbe anche senso che l'avrebbe fatto Perché alla fine Lilith ad un motivo per noi ignoto Sta in paradiso a prendersi i soli sulla spiaggia Perché cazzo? Perché non lo so Probabilmente lo sapremo nella seconda stagione Ma credo che Ma credo che proprio l'anima di Alastor ce l'abbia Roo E non Lilith Perché Lilith avrebbe anche senso Perché come detto prima Credo non lo so In questi giorni sono un po' rincoglionito Perché non faccio video da tanto tempo Per l'appunto Magari può costringere Alastor ad aiutare la figlia Dato il suo enorme potere Però Però questo non avrebbe alcun senso A mostrare tutti quegli occhi rossi Prima della caduta Per l'appunto Di Lucifero e Lilith Verso l'inferno Quindi io penso che effettivamente Chi abbia l'anima di Alastor sia Roo Ed il perché forse ce lo dovranno spiegare Nella seconda stagione Magari è una pedina mandata Per spiare la famiglia Morningstar Magari per Per sapere di più Su questo hotel Eccetera Tra l'altro perché mai dovrebbe Salvargli la vita Da un angelo Dato che Zessia Dice che per l'appunto Alastor è sparito È scomparso da tutti questi sette anni Perché è stato sospettato Di per l'appunto È sospetto Che l'abbiano ammazzato Con magia angelica Per l'appunto E credo che Zessia Sa di sapere Magari è proprio No Non vorrei dire che Zessia Possedere l'anima di Alastor Perché sembrano molto amici Però Non lo so Non lo so La butto là Per questo Lo butto da là Subito nel primo Nel primo sondaggio In cui ho fatto Questa Questa teoria Su chi avesse fatto il patto Con Alastor No vabbè E quindi Io mi chiedo Se onestamente Chi cazzo abbia fatto il patto Perché anche alla fine Lilith avrebbe pure senso Poi io non credo A quella teoria Che esistano due Lilith Oppure che Rue Sia Lilith Sotto spoglie Cioè nel senso che Rue si sia travestita Da Lilith Perché non avrebbe Alcun senso L'unico motivo Plausibile Per cui Magari Rue Abbia salvato Alastor Da un angelo E perché magari Ha visto una gran fonte Di potere E lei Essendo il male puro Gli ha proposto Un patto Per il quale lui Poteva essere Per l'appunto Non ferito Mortalmente Dalle armi angeliche Quindi questo qua Spiegherebbe Perché non è morto Quando per l'appunto Il suo microfono È stato rotto Proprio perché 50% dell'anima Di Alastor Sta nel suo corpo Di demoni Qui e ora E l'altro Suo Tra l'altro Con quel colpo Di chitarra Penso che Chiunque Sarebbe morto Quando Adam Dà proprio La chitarrata Addosso Dopo che Gli ha rotto Il microfono Quindi penso Che lui Abbia dato Non la 100% Immunità Alle armi angeliche Ma penso Che un pochetto Di immunità Effettivamente Gliel'abbia data Nemmeno così tanto Però alla fine Sì Questa è ovviamente Solo una mia teoria Personale Che però L'ho sparata Alla bella Gross Magari Eppure È solo una Stronzata E vabbè Comunque Questo qua Spiegherebbe Anche Del perché Alastor Non abbia I poteri Completi Perché alla fine Alastor Stesso Dice che Per l'appunto Ha perso Gran parte Del suo Potere Proprio perché Roo Per l'appunto Potrebbe aver fatto Un patto Con lui E per l'appunto Rubandogli l'anima Magari ha rubato Anche i poteri Dato che abbiamo visto Che anche Ask era un overlord Ma poi ha perso Anche i suoi poteri Da quello che dice lui Per una cartita A carte In questo caso Che ci ha messo L'anima No Nella mia testa Suonava meglio Stà battuta Però vabbè Con Alastor Per l'appunto Quindi E quindi Io mi chiedo Se effettivamente Alastor Non abbia il 100% Dei suoi poteri Proprio perché Roo Abbia fatto questo patto Con lui Poi Volevo dire Anche un'altra cosa Su Alastor Ovvero sul fatto Che ancora Non sappiamo Come abbia fatto Lui Senza magia angelica Al proprio Eliminare Annientare Per sempre Dei demoni Peccatori Che sono Si overlord Per carità Puoi essere Un overlord Più forte Puoi battere Un overlord Se sei un overlord Però Se lo ammazzi Poi quello là Torna in vita Infatti È per questo Che gli angeli Hanno deciso Di fare Questi maledetti Stermini Nasce proprio Tutto quanto Da là Quindi Com'è possibile Che effettivamente Tu sia riuscito A Per l'appunto Ammazzarli Stroncarli Per sempre Intanto Non c'è dato Sapere Però Speriamo Di ricevere Più Maggiori Informazioni Nella seconda Stagione E penso Che adesso Ho detto Davvero Tutto Quanto Abbastanza Quindi Quindi Spero Che questo Che questo Video Lo stavate Aspettando Che vi Spero Che Madonna Non so Parlare Spero Che vi sia Piaciuto Ecco E Niente Restate Sintonizzati Per altri Video Quindi Ciao Ciao